Quando mi sono affacciata alla vita, la grande guerra era finita da un anno. Il mondo era in subbuglio. L'Italia era in piena crisi economica. Qualcuno però capì che l'agricoltura poteva diventare il valore sociale strategico per risollevare il paese. E così fu. Ricordo ancora le pubblicità su Laratro, il giornale dell'Associazione Agricola Provinciale, che, come me, in quegli anni muoveva i primi passi. I disegni e le scritte dalle linee severe rivolte ai proprietari terrieri illustravano la grandezza dell'agricoltura italiana. Il nostro territorio cambiava. Cambiava Alessandria, cambiavano Acquiterme, Ovada, Casale, Novi Ligure e Tortona. Cambiavano gli edifici e le persone, molte delle quali migravano dal sud per lavorare nei nostri campi. Gli agricoltori passavano da una visione strettamente legata al campanile ad una più ampia e moderna. Poi lo scoppio di nuove bombe. E questa volta. Io c'ero. Me le ricordo bene. Ricordo il suono delle sirene che avvertivano dell'arrivo degli aerei pronti ad eseguire condanne a morte. Dopo la guerra ero distrutta. Credevo di non riuscire a risollevarmi. Ma la forza di tanti uomini e tante donne che lavoravano con me mi ha dato la spinta per ricominciare. Ricordo l'avvocato Camillo Ravazzi e il professor Luigi Franzini, uomini coraggiosi che mi hanno presa per mano tante volte e guidato con i loro preziosi consigli verso la maturità. Per la prima volta ho sentito una parola nuova. Europa. Subito non ho capito la grandezza di questa idea. Ma grazie all'aiuto di persone come Enrico Barbieri e Pietro Viscoli, ho capito che poteva essere una grande opportunità per aprirmi al mondo. Erano gli anni sessanta. Il paese rifioriva. Sono stati anni felici tra campi di grano, barbabietole, mais e girasoli, vigneti e risaie. Gli anni della ricostruzione fisica e morale. In quel periodo ho anche cambiato casa per la quarta volta. Ma grazie ad Alberto Brondelli ho trovato il posto giusto e oggi sono ancora qui. Ma non sono mancati i momenti difficili. Lo sa bene Paolo Barbieri che mi è stato vicino e insieme siamo riusciti a uscirne a testa alta e ancora più forti di prima. Ripercorrendo gli ultimi anni però, non posso non pensare a tutte le volte che la natura ci ha messo alla prova. Come quel 6 novembre del 1994. L'acqua aveva invaso ogni campo. Lo straripamento del Tanaro aveva portato via la vita a 11 persone. La popolazione però riusciva a non abbattersi e tutti collaboravano per risollevare la città. Ricordo Mariano Pastore in soccorso con i propri mezzi per aiutare i tanti agricoltori a salvare le loro aziende. Ricordo il 2000, quando gli amici di Casale sono intervenuti per i propri concittadini sommersi dalle acque del Po. Insieme abbiamo superato anche quei momenti. Gian Paolo Coscia mi ha fatto capire l'importanza dell'unione tra le persone e che anche quando queste ci lasciano, quello che si è condiviso rimane dentro di noi, così come dentro di noi rimangono i loro insegnamenti. Dentro di me rimangono quelli di Bartolomeo Bianchi e quelli di tutti coloro che ora sono in un mondo diverso. Un insegnamento che supera le barriere del tempo. E adesso? Adesso si guarda al futuro, ai nuovi mondi da esplorare. Con Luca Brondelli abbiamo appena cominciato. La strada da percorrere è ancora lunga. Guardo avanti, alle nuove sfide che mi attendono e ripongo la speranza nelle persone che camminano con me e in quelle che incrocerò nel mio percorso. Auguro a loro e a me stessa di continuare a credere nell'unione tra le persone. Questo è il segreto per fare qualcosa di grande. La strada da percorrere è ancora lunga. La strada da percorrere è ancora lunga. La strada da percorrere è ancora lunga. La strada da percorrere è ancora lunga.